Voglio vedere se con le antenne riesci a percepire che c'è l'erba avanti e magari le piagge. Grazie a tutti. Grazie. Ecco mi sa che ha sentito già le foglioline di insalata. Infatti ora procede molto spedita e sicura di quello che trova e che sarà di suo gradimento. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eh, l'insalata non è di sovradimento, non questo tipo, preferisce la la zucca che piantiamo noi, no? Eh, sta facendo un'inversione a U. Forse voleva studiare il territorio. E infatti sta andando via, non gli piace, né l'insalata, né il posto. Buon viaggio. Intanto cerca di orientarsi. Vedete, si gira per vedere con le sue antenne cosa percepisce. Vediamo dove va. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.